Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? La politica è il nostro modo di stare insieme e serve diciamo a darci i motivi e anche un po' le regole nel stare insieme. Dunque qual è il futuro della politica? Ah non lo so io non ho una boccia cioè qui del vino ma insomma forse dopo aver bevuto molto vino mi arrischio a previsioni. Grazie e buon appetito!